Calulù, De Ketelare, prolunga con l'esterno, Salma Kers non raccoglie, allora Kiri Keshe, centrale per Galdames, Meite all'indietro, De Ketelare può andare, supera Carnesecchi, anzi no Cernino con la mano, poi Sterza con il tacco fa scivolare Ballotouré, Sernicola fermato dal ritorno di Ballotouré, regolare sul pallone, bella chiusura, poi Orighi, fa Orighi in aria, col sinistro Carnesecchi, Attacca il Milan, con Leao, che va sul destro, centrale Krunic, largo c'è Messias, Krunic vede la porta, calza, Carnesecchi cosa ha preso?